Siamo qui al Salone delle Identità Territoriali, un numero zero che ha avuto un grande successo di pubblico e soprattutto è stato un momento di incontro, di presa di coscienza dei tesori che ci sono all'interno dei comuni. Poi la cosa divertente è sperimentare in diretti i segreti della cucina, soprattutto i segreti della cucina con i prodotti del territorio e nei segreti della cucina con i prodotti del territorio si recupera anche la dimensione del non spreco che è un tema, quasi un filo rosso che ha condotto tutti gli show cooking o anche i momenti dove abbiamo conosciuto la tecnica attuale ma tradizionale della conservazione dei prodotti. Grazie